Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui con la nuova puntata di The Walking Dead riprendiamo esattamente qui da dove ci siamo lasciati sentite che musica veramente bellissima vabbè andiamo avanti come detto dovevamo trovare prima cosa le chiavi per andare qui nella farmacia quindi torniamo indietro dimmi ma assolutamente no eh eh sì è complicato no diciamogli di sì diciamo di sì cioè tecnicamente non li abbiamo mentito perché noi la storia non la sappiamo realmente quindi magari ci ha mentito a noi la giornalista e noi non abbiamo ucciso l'amante di nostra moglie quindi prendiamola così io direi prima di questo non l'avevamo visto oh sì ah ok bene ok vabbè ok no vabbè no vabbè non ha maledizione ma in realtà no abbiamo la possibilità di stare un po' soli con la tipa non questa ma la giornalista e allora io volevo prima dare le pile a appunto a lei no non si passa qua ok passiamo da dietro il bancone andiamo le pile a questa che ha l'occhio di falco ma non sembra molto sveglia visto che stava tentando che stava tentando di utilizzarla senza pile quindi scommetto scommetto che è l'antenna guarda o il volume si accende no non si accende neanche giriamola un attimo magari ha messo le pile storte aspetta fammi controllare che questa magari l'ha messa veramente sto l'ha messa sto no vabbè cioè io ho fatto la battuta per il livello di rincoglionimento della tipa ma questa è veramente rincoglionita cioè cerca di accendere la radio senza pile cerca di ah no sbaglia vabbè la lasciavo pensavo di la muovesse verso altri orizzonti cioè non sapeva che andava a pile ha messo le pile storte mamma mia non c'è proprio e noi ci dovremmo portare ma che l'ho riparata funzionava benissimo anche prima sai tu che sei rincoglionita non è questione di riparare che dice la radio metti si ma metti metti per giro il radio se vabbè mi sa che è durata poco sta radio vabbè comunque prima di andare con la tipa magari fuori cosa gli volevo dare ah la barretta li potete no la barretta me la tengo la do a Clementine al massimo vediamo il tipo magari di uscire qua fuori si magari un'occhiata diamo gliela va si ho visto quando ho iniziato la registrazione no bene ottimo vabbè diamo un'occhiata fuori per con il nostro sguardo impaurito no no rientriamo ah no c'è il cancello ok 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 un paio di giorni eh secondo me qualcosina in più eh non è per sfiducia ok diamo un'occhiata no aspetta questo magari lo lasciamo chiuso diamo un'occhiata prima partendo da qui ok allora lì cosa c'è ah quindi possiamo usare il nostro telecomando magari per accendere le televisioni e distrarli ok ah bene cos'altro c'è da vedere niente allora vediamo qui ma dobbiamo scoprire la combinazione aspetta c'è qualcosa anche qui ahia c'è l'immagine della foto quindi eh mio eh mi sa che quello è è il nostro fratello se eh è una faccia familiare ok va ah ragazzo aspetta è vero le chiavi a parte che lavora là ah no e quindi dobbiamo mostrare la foto per dimostrare al tipo che lavorava effettivamente qui aspetta sì ok abbiamo il telecomando però altra cosa magari vedere qui cosa c'è eh no direi di no allora giovane ma la combinazione ce l'hai tu chiediamo dobbiamo sgomberare le strade per poter andare là fuori come se è finito qui torna vabbè chiediamoli giusto così come è finito qui sono cresciuto qui direi eh no direi di no allora 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 qui presumo che ci serva la combinazione ah ok ce l'ha lui forse ecco no bene bene non avevo dubbi bene bene e quindi scusa non ma se prendiamo il bastone del padre gli diamo una randellata magari come faccio a rientrare ok ci proviamo dai vediamo se magari quel bastone ci può essere utile per dargli magari una trambata poi andiamo con la tipa che cerchiamo di intorparci non ricordo dove sia la porta eccola qui sì perfetto in modo tale che poi andiamo a prendere le chiavi dal tipo torniamo a questa per dargli le cose di glicerina che presumo siano qua no non mi dire che non mi fai prendere il bastone dai cazzo fanculo no scusa ma maledizione io ero convinto che si dovesse usare il bastone ehm lo cazzo la piglio scusa la combinazione spero che non sia scritta da qualche parte perché con i dettagli così qua non c'è niente va scusate per il mal di golo non ci ridice la stessa cosa eeeh eh allora 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 dobbiamo magari chiedere a qualcuno molto probabilmente perché scusa giovane visto che stai lì per morire non è che ci dà la combinazione magari se la sapete no ok lei non ce l'aveva parla con Carly eh chi cazzo è Carly non Kenny questo cos'era esaminato i biglietti di auguri li avevamo esaminati sì ah no sì sì ok 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 eeeh Doug e questo ah Carly ma se no senti che c'è la combinazione giovane t'ho riparato tra virgolette quello lì ti ha salvato eeeh come hai fatto a finire qua allora a questo punto io direi di di uscire con la tipa che cazzo dobbiamo fare qua non c'è nessuna nessun tipo di combinazione no vabbè eeeh andiamo magari la combinazione la troveremo in altro in un altro modo andiamoci andiamo ci penso io in che senso sì non lo so magari la troviamo da perché stiamo uscendo da lì non lo so magari la combinazione la troveremo altrove forse la sa il tipo non lo so o forse moriremo tutti ammazza se sei blu sei pure verde cioè non è che già non stai bene sono tutti verdi quelli qui bene secondo me è il tipo sì è lui non lo so Grazie per aver guardato il video. 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 Eh, cazzo, non ho sbagliato. Selezioniamo la mano. Vai, metti sulla pistola. Non soffocare, rincoglionita. Ma questa è proprio ritardata, comunque. Ah, cazzo. Quindi, quindi, quindi. Quindi devo fare proprio... Ok. Ah no, ok. Questo era per muoverci. Ma, vabbè, l'idea mia era quella di utilizzare il... Ah, cazzo, 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 cazzo. Allora, allora, aspetta perché qua la situazione è un po'. Aspetta, vediamo. Ho un cuscino e due cadaveri. Eh no, allora non dovevo andare qua. Torniamo dall'altro lato, eh. Ci deve essere qualcos'altro. Ma, signori, se ti do il... Aspetta, dove? Aspetta, maledizione, non ho letto. Ma, guarda, io ci ho provato, però non è che ci sia tutta zara. Proviamo qua. Secondo me quello... No, ok, no. Allora, facciamoci un attimo qui. Eh no, che secondo me... Ah, ok, perfetto. Questo lo possiamo... Grande. Finalmente l'ha capito. Ok, non hanno sentito. Aspettate però perché c'era... Prima di andare qui nella macchina... Io volevo, ok, tornare indietro. Perché non ho visto qui nel... Lo specchietto là nella porta che mi dava un segnalino, quindi non so se magari c'è un'arma. Eh, vediamo. Non possiamo vedere. Non possiamo vedere. Ah, ok. Forse ho capito che dobbiamo affacciarci... In questo modo. Perfetto. Eh, cazzo. Eh... Ma non possiamo usare sempre pistola... E... Ci riprovo. Ah, ok, no. Vabbè. Vediamo se mi dice qualche... Sì, ho capito. Fanculo, va. Eh... Sì, se magari non... Che cazzo... Ok. Non mi dava più i tasti, cioè non funzionava. Eh, ma potresti... Brutta testa di minchia. No, no, maledizione. Vabbè, ho sbagliato. Eh... Allora. Famo che... Possiamo andare... Qui, perfetto. Magari ammazziamo quel tipo là sotto. Sempre con l'effetto pistola e cuscino. Ah, possiamo spingere anche l'auto. Vediamo cosa c'è dentro. Se magari... Dobbiamo prendere... La candela. Potrebbe tornarci utile. Vediamo se c'è altro. Direi di no. Magari dobbiamo inserire la marcia per... Poterla spingere. Yes, yes. Don't worry. Ci ateniamo e spingiamola un attimino verso il tipo. Malo. Ah, lo sfracelliamo proprio. Poi ci prendiamo l'accetta e la usiamo per ammazzare gli altri, magari. Uh. Non è proprio silenziosa come uccisione, però. Ah, no, vabbè. Perfetto. Eh. Cioè, adesso... Eh, infatti, mi dicevo perché possiamo adesso aprire la porta. Eh, se a questo punto noi... Eh, no. Ah, no, però uno adesso l'abbiamo eliminato, quindi possiamo fare il giro. Spero che possiamo fare il giro, magari eliminiamo anche l'altro. Prendiamo l'accetta, spacchiamo il finestrino e poi abbiamo un bel po' di armi, dai. Ci abbiamo accetta, rompighiaccio e pistola, quindi possiamo fare delle azioni cazute e cattive. Cioè, non è vero. Eh... Mannaggia la troia. Che cazzo? No. Posso neanche dire che accendo questa... Giovine. Sì, abbiamo bisogno di armi, ma cazzo... Posso cagarle le armi. Ma tipo questo... Possiamo ammazzarla, evidentemente, no. Quindi, quindi, quindi... Ma aspetta, aspetta, signori, tu con sta cazzo di pistola non me la puoi dare che c'ho il cuscino. C'ho ancora il cuscino. Non è vero, abbiamo usato... E andiamo qua, dai. Ehm... A questo punto riandiamo a questa macchina. Troveremo una... Fottutissima... Cioè, con la candela devo rompere il vetro, scusate. Ok, facciamo finta di niente. Ok, facciamo finta di niente. Perfetto. Prendiamoci il nostro punteruolo. Allora. Adesso direi che possiamo, credo, fare il giro a questo punto. Vediamo un attimo. Se ci affacciamo qua così... Vai. Sì, non è immediata la cosa della rotellina per... Oh! Ma no, l'ho preso! Ma che presa per il culo? Ah, proprio le... Quello è l'intestino... Ok, ok. Il mio intestino è andato. Vabbè, riproviamo. Anche perché non so a quanto cazzo sia la registrazione maledizione. Che poi l'avevo cliccato, cazzo. Ma... Ancora. Ma io non ho capito. Aritagliala con l'intestino maledizione. Sappi che... Vabbè. Ehm... Riproviamo. Riproviamo. Non ho capito per quale motivo non prende... Quante volte devo cliccare, maledizione. Riproviamo, riproviamo, riproviamo questa volta. Ah, ok. Che cazzo ne so, prima non l'aveva preso. Boh. Vabbè. Comunque. L'importante è... Fare stragi. Aspetta, aspetta. No, ok. Rientra, rientra, cazzo. Cioè... Diciamo che il mouse non è precisissimo. Cioè, proprio nel gioco, credo sia fatto... Ma vaffanculo, cazzo. Comandi, sì, non sono fatti proprio... Alla perfezione, devo ammetterlo. No, non... Non riesco con la cazzo fottuta rotellina di merda. Non me ne frego un cazzo. Cerchiamo di fare... Oh... Eh, che cazzo. Perchè... Oh, cazzo. Sti cazzo. Aspetto che si avvicini. Eh, non va. Ancora. Oh. Porca troia. Avvisami quando ti fa queste cazzate. Io direi di ammazzare anche qua, esatto. Cioè, abbiamo l'accetta, usiamola. No, no, vai con l'accetta, vai con l'accetta. Mi sembra più... Più figa come cosa. Vai. Oh, stai calmo. Vabbè, allora uso il punteruolo, eh. Oh. Non è che ci stiamo a fare tutti questi problemi. Ah, non ce lo riprendiamo? Ok, ci prendiamo l'accetta. Eh, stai calma. Tu c'hai la pistola, stai bella attrezzata. Allora, io direi di salvare la tipa e poi ci vediamo con il prossimo video. Andiamo quattiquatti. Aspetta, volevo vedere se qua sotto c'era qualcosa magari prima di salire. No, non possiamo. Vabbè, saliamo e basta. Oh, magari detto tutto a puttane. Ok, sono solo. Bene. Ottimo. Certo, però, almeno quella col fucile poteva salire. Cioè, non è per... Con la pistola. No, piano, piano. Ah, no, sta andata solo. Ma stavo a dire, che cazzo? Fermati. Allora, cerchiamo di non far cagate, eh. Che presumo accadrà una cagata. Posso... Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, vai. Vai. Vai, cazzo. Ah, ok. Vieni pure tu, giovine. Ah, bello. Cazzo, vai. Ah, bello. Occhio. Bene. Ragazzina, ci sei? Abbiamo faticato per te, quindi spero ne valga la pena. Ma che andiamo? Che cazzo siamo venuti a fare? Scusa. Secondo me l'hanno morsa. Secondo me l'hanno morsa. Famoci i ragazzi nostri. Dobbiamo aprire per forza? Eh, vabbè, secondo me. Vabbè, comunque. Secondo me ci stiamo mettendo nella merda. Entra... Entra tu, giovane. Io sto fuori con la giornalista, si sa mai che... Allora, due sulle cose. L'hanno morsa o è brutta come la fame? Ok, l'hanno morsa. Eh, sparagli. Sparagli. Eh, sto cazzo. Aveva, magari. E io li sparerei pure. O magari... Ok, ce ne andiamo, vieni con noi. Si trasformi e ci vieni dietro. Eh, mo hai aperto, quindi tanto vale che... Gli tagliamo la capoccia. No. L'accetta. No, la pistola ci serve, scusa. Mi ricordo un po'... Eh... Non puoi avere un'arma, infatti. Non è per qualcosa. Hai fatto una scelta difficile, vabbè, però. Ma usiamo noi l'accetta. Mi ricordo un po'... Tess. Sparagli tu, cazzo. Oh, qua andiamo a finire tutti a... Ma io non è che non gli voto dalla pistola. E' che se si sparasse adesso e noi ci riprendiamo la pistola pure pure. Eh, però riprendiamoci la pistola, perché ci serve. Ma... Ma falla fare. Posso scegliere io, cazzo. Ok. Adesso riprendiamoci la pistola, perché ci serve. Non volevo lasciargiela solo per quello, non per altro. Per quello avrei usato l'accetta. Ok, un po' un mix tra Tess e... Harry. Devo dire. Vabbè. Direi di andare, sì. Anche subito, perché... A parte che sto registrando, credo, da una settimana e mezzo. Non so quanto sia... Quanto sia lungo il video. Ok, sì, un attimo. Perfetto. Oddio, tutto bene è una parola grossa. Io, ragazzi, spero che questa serie vi stia piacendo. A me sta piacendo il gioco. Sembra molto, ma molto interessante. Eh, ok, però. Ci manca sempre la password. Non sia la password. La combinazione. Vabbè, ragazzi. Comunque, ci vediamo allora con il prossimo video. Spero, come detto, in questa serie vi stia piacendo. A me il gioco, come detto, mi sta piacendo parecchio. E vabbè, noi ci vediamo allora con il prossimo episodio. Mi raccomando, commentate. Vi mettete un bel mi piace. Iscrivete alla pagina Facebook se volete condividere, eccetera. E io, come sempre, vi ringrazio adesso in video perché, come detto, per mancanza di tempo non riuscirò a replicare a tutti quanti. Quindi grazie veramente a tutti quanti. Come sempre siete voi il cuore del canale. E quindi niente, vabbè, a parte ringraziarvi, vi invito a seguire queste puntate. Ci vediamo con la prossima. Un saluto a tutti da quel taleale.